Siamo a Brooklyn! Eccoci! È lunga, eh, a farlo tutto? Sì. Almeno abbiamo iniziato, veramente stupendo. Rosalinda Cannavoi e Andrea Zenga stanno vivendo un'indimenticabile avventura a New York, condividendo ogni emozione con i fan sui social media. La coppia, visibilmente innamorata, sta esplorando la città dei grattacieli, e ha definito questa esperienza come un sogno che diventa realtà. Dalle vette dei grattacieli, dove ammirano la città dall'alto, fino al cuore pulsante di Wall Street, e alle toccanti visite al World Trade Center, luogo delle torri gemelle fino al 2001, ogni momento viene catturato e condiviso. La passeggiata romantica sul ponte di Brooklyn è solo una delle tante tappe di questo viaggio incredibile, che i due stanno condividendo anche attraverso le loro storie sui social media. Andrea Zenga ha commentato in un post, citando Buzz Lightyear del celebre film ed animazione Toy Story. Ora capisco cosa intendeva quando diceva verso l'infinito e oltre. Questa frase esprime in modo perfetto l'entusiasmo e l'emozione di vivere un'esperienza unica e straordinaria. Le foto pubblicate su Instagram mostrano una coppia felice e sorridente, circondata dai maestosi palazzi di New York, simbolo della loro avventura d'amore nella metropoli statunitense. È evidente che Rosalinda e Andrea stanno creando ricordi indelebili e una connessione ancora più forte. Questa romantica vacanza diventa non solo una testimonianza dei loro sentimenti, ma anche un'ispirazione per chi li segue, dimostrando che i sogni possono diventare realtà. Basta avere il coraggio di viverli fino in fondo.